Fori a Lanfranco, si va agli ordini dello starter in Regione Toscana. Tutto è pronto con l'ingresso di Liricol. Partiti. Allo steccato Liricol al suo esterno, Nick Diamond, Clarenzio Fan, Reggiolo dall'esterno, Sonnende. Liricol davanti su Nick Diamond, a largo Sonnende, Reggiolo o giù cattino. Poi in corda Clarenzio Fan, a largo Mr. Gualano, dietro Ojuk, sistema Brigante e Sabino. In coda sono prima Malpaga e poi Lanfranco con totale euforia. Parte sinistra del tracciato della pista grande, Sonnende va a chiedere strada al Liricol. Dietro i due Nick Diamond e Clarenzio Fan, Reggiolo e Mr. Gualano. Poi Ojuk che precede Malpaga e Brigante e Sabino in coda totale euforia. con Liricol e Nick Diamond che seguono Sonnende, che ha quel passo lì e quindi cerca di impostare a piacimento. Sonnende e Nick Diamond tra i due Liricol. Quarto di fuori, Galoppa, Reggiolo. Quinto in corda Clarenzio Fan, sesto di fuori Mr. Gualano. Settimo in corda la giuba bianca e verde di Ojuk. e all'esterno c'è Brigante e Sabino. In corda il rosso e il blu è quello di Malpaga in coda. Totale euforia e Lanfranco all'estrema attesa della pista grande. A metà del bosco Sonnende e Liricol. Unic Diamond e Clarenzio Fan, Ojuk e Reggiolo. Mr. Gualano e Brigante, Malpaga in corda. Totale euforia. Nessuno che fa la prima mossa. Con Sonnende e Liricol. Unic Diamond e Reggiolo. Di dentro Clarenzio e Ojuk. Malpaga tutta corda. Poi Mr. Gualano e Brigante all'esterno. In coda totale euforia. Con Liricol che si impegna ai lati di Sonnende. Tra i due ancora Clarenzio Fan che temporeggia. Il più possibile allargue tutti Reggiolo. Con Sonnende e Liricol. Clarenzio Fan e Reggiolo. Allargue tutti Brigante e Sabino. Di rincorsa e totale euforia. Con Liricol che ha in vantaggio su Clarenzio. Che inizia lo scatto. Poi Reggiolo e Brigante. Con Arragui tutti. Totale euforia. Con Liricol attaccato anche da totale euforia. E Brigante e Sabino. Con Brigante e totale euforia. Lanfranco che sfila la frusta. Clarenzio che risponde. Brigante che scatta. Brigante e totale euforia. All'interno Clarenzio Fan. Brigante e Sabino. A fil di palo Clarenzio. E Brigante indivisibili. Si divide il recinto riservato. Tra chi dice. Secondo me ha vinto quello all'interno. Secondo me ha vinto quello di fuori. Resta il fatto che l'accoppiata. Vede all'interno Clarenzio Fan. E all'esterno Brigante e Sabino. Che secondo me era in qui leggerissimo vantaggio. Clarenzio che prova ad entrarli. Siamo al limite della parità. Con tempi di caloppo. Che si dividono a questo punto. Mamma mia. Siamo al limite della parità. Terzo Lanfranco con totale euforia. Riproveriamoci un'altra volta. Ma la vedo dura dividerli. Grazie.